Amici di Rai 1, buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con le previsioni di traffico per questo lungo ponte di Ogni Santi che contempla la festività di Halloween con tantissimi appuntamenti per grandi e piccini in tante piazze italiane, ovviamente la festività di Ogni Santi e ci saranno i ricongiungimenti con le famiglie d'origine, le tradizionali visite al cimitero del paese alla vigilia del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Molti italiani quindi in partenza, complice il bel tempo, infatti si preannunciano bellissime giornate di sole e anche le scuole chiuse. A dimostrazione di ciò monitoriamo le immagini di autostrade per l'Italia in real time che mostrano il traffico intenso congestionato direi in area meneghina tra Piero e Cormano. Andiamo in area partenopea e queste sono le code proprio sulla tangenziale di Napoli, ma non mancheranno le visite alle città d'arte, località di mare e di montagna con interessamento dei flussi veicolari orientati prevalentemente direttrice nord e sud. Inizio nelle segnalarvi che a Lucca è pronta ad accogliere, pensate, 290 mila persone fino al martedì 1 novembre per l'edizione di Lucca Comics Games, un appuntamento dedicato a fumetti e videogames di cui la RAI è media partner. Ovviamente disagio e viabilità con code soprattutto sulla Firenze e Mare all'uscita di Lucca. E poi vi segnalo domenica 30 ottobre la Corsa del Ricordo in contemporanea a Roma, a Milano, Trieste e a San Vito dei Normanni per ricordare la tragedia delle foibe e l'esodo delle popolazioni Giuliano Dalmate. E infine vi segnalo domenica ma anche il primo novembre per agevolare gli spostamenti lo stop ai mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22. E prima di concludere desidero invitare tutti voi che la notte tra sabato e domenica di porre le lancette dell'orologio un'ora indietro perché entrerà in vigore l'ora solare. Grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di RAI Pubblica Utilità, un bellissimo Ponte di Ogni Santi, guidate con prudenza e come sempre la linea torna a RAI 1 e arrivederci a presto.